buongiorno a tutti è passato un po di tempo scusate il capello nulla sono andata in vacanza ho fatto un po di acquisti che però non ho qua tutti però ve li provo a vedere magari poi perché è troppa roba e poi ormai vabbè è in giro così però volevo mostrarvi in particolare vabbè sono tre capi che ho comprato in un negozio al mio paese e mannaggia me ho tolto i cartellini con i prezzi scusatemi no eccoli qua forse boh non so si e gatta via allora è un negozio del mio paese appunto e fine stagione mette gli sconti mette ovviamente le cose in saldo e la la seguo su instagram l'avevo vista avevo visto che è appunto questo angolo delle dei scusatemi questo angolo dei 10 euro appunto e tra stessi proprio tanto figo guardi dai passa a spendersoli un giorno avevo in giro non non so per quale motivo fosti in giro e vado a vedere vai a vedere figurati se non trovi qualcosa in quel periodo avevo un matrimonio e un battesimo per il matrimonio avevo già il vestito ho comprato un giacchino su vinted che poi vi mostrerò perché sto aspettando altro da da vinted e all'inizio ho detto ma sì tanto il matrimonio non abbiamo non c'è nessuno in comune il matrimonio e battismo quindi anche se metto la stessa cosa cioè chi se ne frega e invece poi sono entrata ho visto e ho detto vabbè dai no anche perché il battesimo in lungo non è che mandaste molto comunque niente allora sono entrata appunto visto è intanto che questi non c'entrano niente questi pantaloncini molto carini tipo quando pantaloni con l'elastico dietro davanti no qui c'è la cerniera e c'è lì una signora che guardava ce ne aveva in mano cavolo è l'ultimo no non li prende con le tasche però guarda fa è però una l buttaci che magari in realtà ce nemmo altre due o tre paia per dire buona l ma io li provo tanto non è detto che c'è purtroppo ogni ogni brand ogni insomma c'è per dire io entro da da terranova a volte compro la xs per esempio che c'è una xs no io porto la s di solito e quindi insomma unificate questi dettagli per favore e comunque questi qui e dicevo tipo colore gsmart ma poi è cotone alla fine insomma 100% cotone perfetto e li sto dando un sacco vabbè adesso piove magari meno li sto dando un sacco non mi ricordo se sono questi aspettate che porto un'esichetta che manca sono much money dovrebbe essere potrebbe essere questi sì e adesso non sono questi quindi non so questo non ricordo quanto fosse all'inizio però comunque 10 euro poi guarda guarda allora questo è un m questa guanellina io mi sono innamorata di questa è bellissima è bellissima in tulle è bellissima con la fottina sotto l'unica cosa c'è questo cavolo di elastico non è non è con l'attaccato è quello che si gira però vabbè la marca è appunto questa è veramente io la amo l'amo anche perché poi è tutto sforazzante è bellissima questo questa much money questa costava ma ah no questa taglia no non è vero vi unico no non c'entro nulla comunque minigone in tulle fantasia si no la taglia qua taglia m 49 euro e anche questa a dire forse l'ultimo ce ne erano due mi pare non ricordo ma è bellissimo io la amo la adoro con questa ho preso poi la la giacchina qua verde ha però vabbè mi ha colpito il colore ovviamente si ci sono questi questi volant qua che sono un po' vabbè però si chiude quel lancetto qui drastico che poi è pesantissimo è pesante se sta aperto e è un po' spesso è un po' di cosa da chiudere perché è un po' spesso via gatta via aspettate lì perché sennò è un casino e veramente bella e mi sono fatta il compreso insomma mi sono fatta il compreso questa 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 è l'e group vero? si buone vino acqua con la acqua 65 euro pagata sempre 10 e profuma tantissimo infatti quel giorno non ho messo neanche il profumo perché profuma tantissimo e però questa è una este vabbè e cosa metto sotto? cosa metto? si c'ho questo si c'ho quello no però vabbè e primark questo semplicemente però andrò a comprare altri di questi perché sono fantastici questo è quello vabbè spalline regolabili come potete vedere qua è primark davanti e dietro è più più accollato davanti è più scollato e niente questo l'ho messo nella gonna tanto comunque vabbè la fodera davanti e dietro no? è veramente bello ho fatto ho fatto ho fatto la mia figura dai no però no 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 mi è veramente bello mi è proprio piaciuto quindi con 10 20 e il giacchi scusate il il top la canottina sotto 5 euro 25 euro mi sono vestita praticamente adesso mi dovete perdonare ma devo metterlo via perché ci sono i gatti che corrono in giro come matti che mi fanno casino poi allora e quel giorno appunto sono andati da da primark a cercare quelle cose vabbè facciamo un giro facciamo un giro dai facciamo un giro dai ecco per esempio xs come vi dicevo prima allora questi sono un paio di pantaloncini molto scialli molto molto easy insomma e niente sono anche quelli ma li sto usando tantissimo sono due anni che mi sono infirmiata con i short da quando mio compagno dai prova e mi prendi ma prova eh basta mi sono infirmiata con questi e e non mi ricordo so che una forse questi eh 3,99 sapete che poi c'erano tutto un tot paio di pantaloni però non cioè non mi sapeva molto quindi comunque questi e poi questa che è bellissima volevo comprarne su di queste c'era così c'era rossa nero e bianca forse però è quel bianco non è il rosso non mi piace vabbè comunque santo è fine stagione insomma mi spiace perché ripeto si è tutta du si è tutta doppia si 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 con il bottoncino dietro questa invece è una S tutto provato tutto è e appunto non mi ricordo uno 3,99 l'altro 4,99 mi pare vabbè insomma non ho speso nemmeno di sci insomma veramente bella proprio bella bella questa mi piace un sacco anche con questa di velvigua sta bene ok poi come vi dicevo sono andata in vacanza e giuvalo mi spiaggia ma anche perché comunque i ragazzi cioè commercianti trova l'occhino per me intendici dai senza proprietà per nessuno e ce ne erano proprio pochi e aveva fatto un costume ho preso due costume ho preso si uno intero e uno che ha voluto il mio compagno sapete quelli nuovi che vanno di moda che andavano quest'anno con tipo tendina vabbè però al mercato ecco ti ho preso contare degli altri shorts anche dei jeans quando mi trovavo il tiro 2 euro e un vestito mi pare sì 2 euro anche quello tubino un po' troppo poi in un negozio invece lì di fianco faceva scuola di fianco a casa dove siamo stati insomma vabbè queste ma perché vabbè mi sono portata poco una scuola ginnastica quella per andare in spiaggia in bicicletta tra l'altro che avevano un paio di tipo spade videos di primark quindi ho preso queste sono un po' grandi effettivamente ma l'altro mi è tanto per perché l'elastico mi spinge il piede troppo in avanti poi forse è smollato quindi 9.90 come dicevo non mi ha dato il resto e poi che non mi riconteva all'inizio no non c'è neanche sopposto comunque anche queste qui 9.99 qui sono nuove non li ho ancora messi quindi posso toccarli si sono in stile perché vabbè in stile però io d'estate proprio non è che li metto proprio in piena estate non li metto però in questa stagione adesso per me questi tipo bikers tipo bikers con la cernierina qua e sono un po' più carini mi piacciono dai si sono carini speriamo che no però questa non è non è la pelle liscia lucida no ma insomma comunque mi piacciono tantissimo e si questo è il mio numero e niente 9.90 non dicevo nulla e allora per adesso niente vi saluto e poi ci aggiorniamo anche perché sto aspettando vinted un altro scusate da vinted e basta vi saluto vi auguro una buona giornata ciao ciao